Un gruppo di persone ci ha dedicato un servizio sulla I3 importante perché hanno citato appunto il nostro esempio, quello di Castel Bolognese, come da questo punto di vista la parola alle persone. Poi viene in caglia di figure a cui io pensavo che ritenevo più capaci e preparati a parte di me. In quel momento non mi disse altro. Viagli del senatore di Castel Bolognese. Presa pubblica, alcune associazioni eventi hanno chiesto di poter portare una loro breve testimonianza del rapporto. Era possibile farlo solo e soltanto attraverso la convocazione di una commissione che vedesse quel decreto regionale, commissione che era composta, lo ricordo rapidamente, da un giudice del tribunale di Rilena, dall'intendenza di finanza, dall'ingegnere capo del genio civile e dall'esperto. Molti ci dissero che era una impresa pressoché impossibile. C'è prima di maniera, incontrando questo segretto, con il saluto del stretto di maniera, perché io arrivo da lontano. Io ho fatto un complimento. Come, come ho fatto un po' di maniera, ma insieme sui cosa, sono la che rannano. Come ho fatto un po' di lunghe lontano, nella mia risposta, o caramello. Soprattutto, è presciata il diventato con una scopla e una scueta, cui è un bravo facendo per questo mondo, qui deterrò di gran fila. Qui vuol dono che c'è canes, e quando c'è un pezzo, che c'è un pezzo, e che c'è un tiramento, che c'è un pezzo, che c'è un pezzo, che c'è un pezzo, che c'è un pezzo, che c'è un pezzo. E, ovviamente, non si può dire, professore, perché loro non siano nulli, un po' dislenguì, professore dice, insegnano italiano, naturalmente, ma anche le altre, che lui parla bene, il francese, il tedesco, il russo, il francese, e se lo contentevano le fonti, perché all'inizio del Novecento, qui ricorda, la maveste, la del calo, le ore d'andè, me lo sposte, un pezzo, un prezzo, aspetti ancora un misine, io ho una famiglia di amici, che così parlano,